3.800 posti di lavoro stagionale in provincia di Cuneo, 6.000 in tutto il Piemonte sono a rischio nel settore ortofrutta. L'allarme è stato lanciato dalla Coldiretti. Il sindacato agricolo ha denunciato gravi danni causati dalle gelate di febbraio. Secondo i tecnici in alcuni casi è compromessa il 70% della produzione, un terzo dell'ordo vendibile. Soprattutto sui fruttiferi, sulle piante giovani. I pianti giovani sono più sensibili a queste basse temperature. Per contro, ho anche un po' di ottimismo per quanto riguarda i cereali. I cereali per fortuna che è nevicato perché l'andamento secco, non avessimo avuto neve, con freddo sui cereali rischiavamo anche su quelle culture. Coldiretti chiede un'azione sinergica da parte delle banche perché le ricadute saranno pesanti e le imprese necessitano di capitali per fronteggiare l'emergenza. Abbiamo riunito un tavolo a livello regionale con tutti gli attori della filiera per individuare quelle che potevano essere le proposte da portare giù a Roma per richiedere degli aiuti economici. Abbiamo richiesto, sono stati richiesti degli sgravi fiscali contributivi, primi fra tutti IMO e IMSS. È stato richiesto un adergo sullo cemerto frutta, la possibilità di attingere a dei mutui pluriannali favorevoli da parte di Smea e anche la cassa integrazione per quegli operai che non potranno più essere assunti, non si potrà più farli lavorare per mancanza appunto di prodotto. Nella commissione politica agricola che è il tavolo che riunisce tutti gli assessori all'agricoltura d'Italia pochi giorni fa abbiamo portato a queste istanze, sono state accolte anche dalle altre regioni, quindi il prossimo passaggio sarà quello di intervenire nei confronti del Ministero e del Governo affinché ci ascoltino e soprattutto affinché si rendano conto di quello che è l'effettivo danno nei confronti dell'agricoltura piemontese derivante da queste gelate che ahimè saranno di molti milioni di euro. Grazie a tutti.